Ha ammesso tutto e chiesto perdono il 22enne finito in manetti all'alba dello scorso sabato dopo il drammatico incidente costato la vita a Giovanna Santorelli, nata nola ma residente ad Arezzo. Un violentissimo impatto attorno alle 5.30 a Pinarella di Cervia, causato presumibilmente da un salto di precedenza dello stesso 22enne, nel quale sono rimasti feriti anche il fidanzato della giovane vittima e un'amica della coppia. I tre erano arrivati da Arezzo per prendere un cane trascorrere la Pasqua in Riviera. Per il giovane accusato di omicidio stradale è stato inoltre convalidato l'arresto, è stato così posto ai domiciliari. Era alla guida sotto l'effetto di alcol, aveva infatti un tasso quasi 4 volte e mezzo sopra il limite e sotto l'effetto di stupefacenti è risultato infatti positivo ai cannabinoidi. Il 22enne ha ammesso di aver bevuto molto quella sera in una discoteca della zona ma ha negato di aver fumato droga. Dopo l'autopsia che ha confermato la morte sul colpo della giovane per la rottura delle vertebre del collo, oltre ai gravi traumi riportati al bacino, la salma è tornata ad Arezzo. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa del Sacro Cuore di Piazza Giotto alle 15.